Per rispondere alla crescente domanda dei tanti che scelgono di sposarsi in Toscana torna Wedding Industry Meeting, terza edizione dell'evento dedicato al mercato dei matrimoni presentato nella sede della Presidenza della Regione a Firenze in programma alla Bagnaia di Siena il 18 e 19 marzo dopo due edizioni fiorentine. Il Wedding Tourism in Toscana vale 160 milioni di euro di fatturato e su di esso, ha detto l'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo, la Regione continua ad investire. In Toscana si è individuato questo come una possibile offerta, come un possibile spazio di mercato e siamo stati capaci, sono stati capaci, di mettere insieme le professionalità che offrono un prodotto offrono l'opportunità a chi ha questo desiderio di trovare il luogo, di trovare l'organizzazione, di trovare gli eventi. Cuore di Wedding Industry Meeting, che l'anno scorso ha visto presenti 200 operatori del settore sono ancora una volta gli appuntamenti programmati tra wedding planner e fornitori come catering, fioristi, hotel e location. Finalmente su una nicchia di mercato come quella della Wedding Industry, in particolar modo per il Destination Wedding, un turismo di qualità che riesce a delocalizzare i flussi e anche spesso volentieri a destagionalizzarsi, la Regione Toscana chiama a raccolta tutti gli operatori di settore per potersi confrontare, per potersi aggregare, per poter creare e sostenere in maniera comune delle politiche di promo commercializzazione di questo settore. Wedding Industry Meeting sta crescendo di edizione in edizione la propria fama a livello nazionale e internazionale con importanti ricadute sull'economia e sul turismo in Toscana che detiene quasi il 31% del mercato del wedding tourism. A livello internazionale la Toscana è la prima destinazione italiana per il wedding e quindi questo evento fa parte di un insieme di politiche che Toscana Promozione mette in atto per promuovere non soltanto i territori del wedding ma la filiera delle imprese del wedding che è molto ricca.